Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sfoglio insieme a voi il nuovo album 1 del libro Shee valido dal 28 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022. Andiamo a vedere insieme le novità. Nelle prime pagine, come sempre, troviamo il sommario che ci va ad indicare quali sono le offerte che troveremo durante lo sfoglio dell'album. Qui abbiamo la linea Lifting Vegetal, il siero, il fluido rimodellante, il trattamento da giorno e il trattamento da notte. Tutta la linea con uno sconto del meno 40%. È una linea veramente ottima. Io la utilizzo, utilizzo tutti i prodotti, e vi posso garantire che mi trovo benissimo. Poi abbiamo questi altri prodotti, anche qui con uno sconto meno 40%. Sono prodotti anti-età. Abbiamo anche crema per le mani. Vedete? Poi qui troviamo la linea Anti-Age Global. Qui uno sconto del meno 35%. Abbiamo i sieri, questo da notte e questo da giorno che vi ho mostrato precedentemente in altri video. Anche questi li utilizzo e vi posso garantire che sono ottimi. Andiamo avanti. Troviamo anche quest'altra linea con uno sconto meno 40%. Questo qui è un altro prodotto che utilizzo sia per occhi che per le labbra. Costa 14,95€. È ottimo. Poi abbiamo quest'altra linea con uno sconto meno 35%, sempre prodotti anti-rughe. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.